Sì, seguendo con grande interesse la vostra iniziativa, sono stata sulla piattaforma, l'ho trovata davvero interessante. Sono una iscritta di fondazione e sono una docente di latino e greco. Ho bisogno di un po' di tempo per ascoltarvi e per riflettere su quanto ho ascoltato nel frattempo, però mi è molto piaciuto l'ultimo intervento. La questione è proprio questa, secondo me. Bisogna ripartire dal fare. E come docente ho un po' questa abitudine di essere più concreta. Quindi sto pensando, anche riferendomi a delle esperienze fatte. Io sono di origine napoletana e vivo da 40 anni in cioceria per lavoro, eccetera. Quindi diciamo che ho seguito, seguo un po' e un po' la realtà di Napoli, quella della Campania, in modo più stesso quella della cioceria. Io penso che sia importante ricominciare a fare. Nel senso che ci sono già delle realtà che fanno tantissimo in Campania, nel Lazio, in cioceria. Ecco, sto pensando di... ho conosciuto una realtà importante che è quella che opera a Torre del Greco, che ha operato per quanto riguarda l'inquinamento del fiume Sarno. E quindi, ecco, ho conosciuto persone eccezionali che lavorano nell'ARPAC, che lavorano nelle scuole e che hanno portato a termine lavori veramente interessanti. Hanno coinvolto i ragazzi, i studenti, ma non solo. Sono realtà territoriali queste veramente complesse, sulle quali però stanno lavorando tantissime organizzazioni. E allora, perché non estendere l'esperienza fatta da queste realtà scolastiche e territoriali della Campania? In Ciociaria, nel Lazio, sicuramente ci sono già organizzazioni che operano in tal senso. Però parlo proprio a livello di coinvolgimento delle scuole, perché secondo me la formazione, la conoscenza è importantissima. Per cui, ecco, partendo da un progetto veramente importante che ha fatto una scuola di Torre del Greco sull'inquinamento delle acque del fiume Sarno, ed è una realtà veramente triste questa, Io sono dell'idea che si potrebbe acquisire l'esperienza fatta da queste scuole, che hanno operato veramente bene, in modo significativo, e portarle, trascinarle anche dalle nostre parti. Sto pensando, per esempio, all'inquinamento del fiume Sacco, che purtroppo sappiamo tutti qual è la situazione legata al fiume Sacco e alla sua pianura fluviale, non solo, la sua estensione, eccetera, eccetera. Per cui, ecco, pensavo appunto di interessarmi in misura maggiore io stessa e di portare le esperienze fatte dai miei colleghi di questo liceo di Torre del Greco, della loro esperienza, le famose sentinelle verbi hanno chiamato il progetto, di poterlo estendere, pensavo, anche ad altre realtà scolastiche della zona in cui vivo. Questo, però ecco, ovviamente è un'idea e ovviamente io vi sto ascoltando, ho grande interesse, però c'è bisogno di tempo per ovviamente realizzare quanto detto, se non altro iniziare a realizzare. Ecco, questo, e con questo ho finito e vi ringrazio per avermi, insomma, invitata, spero di vedervi presto. Questo, buona giornata. Io ho finito.